I dieci mesi da marzo d'oggi ci hanno insegnato che non è andato proprio tutto bene ed è quindi responsabilità di tutte e tutti noi studenti comportarsi in maniera ragionevole durante queste feste, che saranno, dovranno essere necessariamente diverse. Usiamole per leggere, usiamole per pensare, usiamole per ribadire che soprattutto adesso il diritto allo studio deve essere garantito a tutte e tutti. Il regalo migliore sarà non lasciare indietro nessuno. Dal Presidente e dal Consiglio degli studenti, buone feste intelligenti.